ma non capire la massima ora nero quando sono arrivato io anche a Udine c'è sempre il sole per cui è come stare a Napoli ho detto a tutti però credo che ma io non dico mai la città assoluta siamo tutti uguali quando uno fa il suo lavoro ognuno rispetta l'altro non è la lente qui tante ci sono tante donne qui no no ma viva di famiglia io quando esco vado in centro c'ho sempre mia moglie e miei bimbi sono belle donne sono gente curata sono gente per bene ma se ne si vado a ballare non so che devo ballare ascoltare la musica e basta non so una che va a cercare a volte mi penso anche che sono il numero uno perché sai uno che ti fa 57 cori di due anni che manca ancora due partite non l'ha fatto mai nessuno qualche volta posso dire che sono stato il numero uno quello sì però è una parte del gioco a me mi diverte il calcio è una passione e vado avanti sulla mia scuola la mia scuola la mia scuola la mia scuola